Oggi torniamo nella fondazione del premio Napoli con il primo libro della Terna di narrativa per il 2023. Iniziamo! Amici, bentornati sul canale, bentornati su Recenso, videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Come ogni anno più o meno in questo periodo, torniamo a parlare della Terna di finalisti nella sezione di narrativa del premio Napoli. Del premio Napoli abbiamo parlato lungamente in quest'ultimo anno, quindi non aggiungo nient'altro, se non che sono sempre sul punto di contattare la fondazione per avere un incontro con il presidente. La speranza è sempre quella ovviamente di riuscire a incontrarlo, quindi se magari volete fare delle domande iniziatemele a scrivere qui sotto. Io poi le unisco a tutte le altre che vorrei preparare, che sto iniziando a preparare e poi faccio la domanda e vediamo un poco. Oggi però, appunto, del primo libro è come ogni anno, l'ordine non lo decido io ma è quello che appare nell'infografica appunto pubblicata proprio dalla fondazione, quindi non è un ordine che ho deciso io, e l'ordine proposto da loro. Come dice il titolo di questa puntata e la sua copertina, oggi parliamo del libro di Silvia Ballestra, La Sibilla, Vita di Joyce Lussu. In questa edizione del 2022, edito da La Terza, in questa postura molto morbida, del costo di 18 euro. Una copertina che, come si vede stesso qui dall'immagine, si concentra su quello che è il focus proprio dell'autrice, appunto Joyce Lussu. Però prima di parlare di questo libro, parliamo un attimo brevemente dell'autrice. Silvia Ballestra è nata a Porto San Giorgio il 16 aprile del 1969 e il suo esordio come scrittrice si è avuto nel 1990 partecipando a Paper Gang, che è un'antologia di racconti. Si laurea poi in lingue e letterature straniere a Bologna e il suo vero esordio come scrittrice di libri, di saggi, di narrativa, si ha nel 1991 con Compleanno dell'Iguana. Nel frattempo però scrive anche per molte riviste e giornali, firmando numerosi articoli, soprattutto per l'Unità. Con il suo primo libro e i successivi due si ha la trasposizione in una sceneggiatura per film firmato Riccardo Milani, intitolato proprio con il titolo di uno dei suoi libri, La Guerra dei Yantò. Dal 2011 è anche parte della giuria del premio Bagutta e ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Fiesole per gli Under 40 nella narrativa, il premio Rapallo Carigge ed è stata due volte finalista del premio Bergamo. Il libro in questione quindi è La Sibilla, vita di Joyce Lussu. Io devo fare una premessa un po' come abbiamo fatto con l'ultima puntata dell'anno scorso per la terna del premio Napoli ed è sempre un po' la stessa premessa che faccio quando iniziamo a trattare qualcosa che non rientra nelle mie corde e soprattutto non rientra nella mia formazione scolastica perché in questo libro parliamo di nuovo della seconda guerra mondiale. Voi sapete per quello che vi ho raccontato di me in questi anni che la mia formazione scolastica lascia un po' a desiderare su questi temi proprio perché a scuola l'istituto d'arte non è che abbiamo studiato chissà quanto la storia, l'italiano e tutto il resto. Non perché non c'era voglia da parte mia ma perché dall'altro lato gli insegnanti e gli insegnanti lasciavano molto a desiderare per presenza in aula. Ma questo è un altro paio di maniche. Detto questo proprio perché non conosco bene l'argomento la premessa è doverosa proprio perché proprio per questo non voglio calarmi troppo nel parlare quindi storicamente di quello che è successo anche perché per quanto mi riguarda tutti questi eventi sono sempre molto nuvolosi non hanno una vera e propria per me collocazione nella linea temporale e quindi non voglio andarmi a impelagare in cose che poi magari non vi racconterei bene. Però leggere questo libro e libri come questo o che comunque trattano l'argomento della seconda guerra mondiale è per me un grande vantaggio perché anche se magari storicamente non vanno a raccontare tutto nel dettaglio iniziano ad illuminarmi un poco come dei piccoli spot dei piccoli riflettori su quello che appunto è successo. Quello che qui la scrittrice Ballestra fa è tra virgolette semplicemente ma non è assolutamente così semplicemente ma lo rende lei molto semplice e fruibile come argomento è il racconto di quel primo dopoguerra e a cavallo quindi con l'inizio della seconda guerra mondiale con quello che ne consegue. Ma per raccontarci questi eventi parte da quello che è il suo centro il suo fulcro che è appunto la donna che vediamo qui in copertina, Joyce Lussu, protagonista di questo libro della quale viene raccontata possiamo dire vita, morte e soprattutto miracoli. Una donna veramente molto potente e forte per oggi ma anche soprattutto per il suo tempo. Ma l'autrice non parte da lei direttamente. Quello che fa Ballestra è andare indietro nel tempo e raccontare un po' quello che sono le radici di questa donna e anche le radici del marito Emilio Lussu. Per cui ci troviamo nelle Marche ancora prima della prima guerra mondiale e il racconto si concentra quindi su quelle che sono le gesta e la situazione sociale e politica riguardante la famiglia Salvatori che è quella appunto da cui proviene Joyce. La vicenda quindi si concentra su quello che è il passato dei genitori di Joyce, su quello che è quindi anche lo spaccato del passato della società e della cultura dell'epoca. Una società che come al solito si è divide fortemente per grandi contrasti e spaccature in due grandi parti. La parte che puntualmente paga lo scotto della guerra che è quella del popolo e la parte invece che guarda caso riesce sempre a trovare un modo per arricchirsi e per avere la meglio che è la parte un po' più ricca dei possidenti terrieri, della nobiltà, così fortemente ancorata a quella che è la loro tradizione, a quelle che sono quindi le basi e i pretessi per cui la nobiltà in un modo o nell'altro secolarmente esiste, sussiste e persiste nel tempo. Ma è anche vero che il racconto poi si concentra su quella parte più ricca, nobile, agiata, fortunata, che prende coscienza di quella che è la sua situazione in contrasto con la situazione di tutto il resto d'Italia, quindi la parte più povera, più in difficoltà, e quasi rigetta quelle che sono le proprie radici, la propria provenienza sociale e anche la propria ricchezza. E' come un chiudere le porte in faccia al proprio passato, non per innegarlo e allontanarsene punto e basta, ma proprio perché non contenti di quello che è appunto questa forte spaccatura, ci si allontana e ci si costruisce, ci si fa la fortuna con le proprie stesse mani. Ma questa fortuna nella famiglia di Joyce, come anche in quella di Emilio, passa anche per l'attività, possiamo dire, politica. Non voglio usare il termine sovversivo perché forse è un po' usato in maniera sbagliata da parte mia, però per farvi capire, questo rigettare un po' la situazione così avvantaggiata che si ha rispetto a tanti altri. Ed è in questo contesto che va contro lo status quo delle cose che quindi nasce Joyce. Ed è anche lo stesso contesto per sommi capi nei quali, dall'opposto delle Marche, che in quel periodo era ancora stato pontificio, ritroviamo poi in Sardegna con la famiglia di Emilio Lussu. Emilio che ha molti anni in più rispetto a Joyce e sono due estrazioni sociali, possiamo dire, due contesti, ma anche due luoghi geografici, uno all'opposto dell'altro e quindi è difficilissimo che i due si sarebbero mai potuti incontrare se non fosse stato proprio per la lotta politica e sociale che entrambi hanno portato avanti per tutta una vita e soprattutto anche per la determinazione di Joyce, che è riuscita in un certo senso a far abbassare le difese e a cambiare i pensieri del futuro marito Emilio, andando così a costruire e a intrecciare le loro vite assieme. Ma in questo ovviamente Joyce non perde la propria identità, non scompare nell'ombra del marito né agli inizi della loro relazione, quindi dei loro primi incontri, dei loro primi confronti né quando ovviamente, più avanti nel tempo, Emilio viene introdotto nella vita politica dell'Italia come ministro. Joyce non si limita quindi a vivere nell'ombra del marito, sotto il suo cognome e quindi con i privilegi della carica del marito, ma è una donna che si è costruita da sola e continua a costruirsi da sola per tutta la vita. Ballestra ci propone quindi il racconto di un uomo e di una donna, ma anche di tanti uomini e tante donne dell'epoca che hanno combattuto strenuamente quelli che sono i regimi che hanno vissuto e convissuto in Italia, quello quindi nazifascista. In questo modo quindi vediamo anche tutto l'impegno non solo di Emilio e di tanti uomini, il cui racconto è sempre presente nelle storie e nei libri di storia d'Italia, ma anche e soprattutto il racconto che viene fatto di Joyce e di tante altre donne che puntualmente sono rimaste nel buio, nell'ombra, nelle retrovie, nel dietro le quinte della storia, nel silenzio e nel buio della storia, operando in gran parte, come ci racconta proprio nelle gesta di Joyce Lussu, operando scelte coraggiose e azioni ancora più coraggiose a dispetto invece di azioni che gli uomini in quel momento non avrebbero mai potuto fare, proprio perché sotto il mirino di tanti poliziotti, di tante istituzioni dell'epoca. In questa specie di libertà che non è libertà ma è un menefreghismo delle istituzioni nei riguardi delle donne, Joyce si propone quindi in maniera molto forte e tenace proprio per disancorare e possiamo dire combattere in una lotta veramente molto attiva quello che è appunto il regime e lo status quo che non solo c'era in Italia ma sopravviveva e cresceva enormemente in tutta Europa e poi anche fuori dall'Europa. È una donna che quindi ha viaggiato molto, si è spostata tantissimo, una donna piena di cultura, di sete, di sapere, di conoscenza, che però non ha limitato solo a se stessa come un voler riempire il proprio vaso, il proprio cervello, ma anzi ha poi utilizzato tutta questa sua fame di conoscenza per aiutare come appunto uno strumento il resto dell'Italia e soprattutto uno sguardo in particolare verso i più disagiati, i più in difficoltà, quelli che quindi la politica attiva ha sempre tenuto molto poco in considerazione e vediamo che le cose non è che siano cambiate nel corso di questi anni. Io non mi voglio concentrare molto su quella che è la storia nel senso di dire la mia su quello che è un po' l'avvicendarsi degli eventi di questo libro, quindi non vi spiego neanche il riferimento tra Joyce Lussu e questa Sibilla perché vorrei che poi leggendolo scopriste da voi ed è un elemento particolare perché appunto è un modo nel quale si scopre che ci fa assaporare tantissimo questo tipo di racconto che Ballestra ci fa. Quello di cui voglio parlarvi e mettere molto l'accento sulla situazione e su quella che è la storia che viene raccontata è proprio la figura di questa donna, una donna molto pragmatica, una donna che vivendo su un territorio che non ha confini mentali, forse fisici sicuramente li ha incontrati, che è appunto quello della cultura, avendo lei studiato in più paesi d'Europa, anche sotto falso nome, proprio per ottenere quella libertà che i regimi non le volevano dare in alcuna maniera, vediamo questa Joyce Lussu in un racconto che è carico di energia, di pathos, di voglia di fare. Possiamo dire che Joyce è proprio la femminista antinesiana, è un po' anche quella lottatrice per i diritti delle donne che precorre sicuramente i tempi, che se già per l'epoca in cui ha vissuto era particolare, era difficile da comprendere vista in modo sbagliato nei circoli politici, culturali del tempo, oggi la vedremo anche con occhi che non solo si sbarrano ma ci lascia senza parole, perché quel tipo di donna che ha compiuto questa lotta femminista, non attaccando quello che era già all'epoca il potere patriarcale, non mettendo contrasti e differenze, sottolineando le differenze tra le donne e gli uomini, ma appunto lottando affinché le donne per le loro stesse prerogative potessero essere più libere, più aperte al mondo e il mondo più aperto nei loro confronti. Si sottolinea quindi un po' una storia che va su due binari. Il primo è quello che ci racconta un po' il contesto storico, quello nel quale quindi i personaggi si muovono, da cui escono, che è appunto un po' possiamo dire la prima parte di questo libro e quindi anche le difficoltà che vengono riscontrate a livello storico ma anche l'azione da parte dei personaggi e soprattutto parliamo di Joyce e di Emilio in primo luogo. Ma poi si sposta questa narrazione mettendo luce a quelli che come vi dicevo erano il dietro le quinte e che non viene mai raccontato se non in alcuni film e in alcuni libri nei quali però sono sempre gli uomini i protagonisti di quest'azione nell'ombra e nel silenzio della storia. Solo che appunto venendo raccontati non sono più nel buio e nel silenzio. Nel buio e nel silenzio rimangono sempre le donne e quello che fa quindi Joyce e soprattutto quello che ci ripropone e mette in luce oggi la ballestra è appunto l'azione di una donna ma anche di tante altre donne che hanno ruotato attorno al centro che era appunto questa Joyce Lussu nell'intento quindi di raccontare le sue gesta ma soprattutto i suoi intenti, i suoi propositi, i suoi tentativi di far uscire dalle cucine e dalle camere da letto dei bambini le donne italiane. E non solo perché abbiamo detto che Joyce ha viaggiato tantissimo. In questi tentativi quindi si racconta una lotta femminista che è puramente una lotta femminista che non vive e non sussiste nel confronto costante con il mondo maschile ma che anzi proprio perché dimostrando nel suo modo di vivere, nel suo modo di studiare, nel suo modo di lavorare e comportarsi dimostra Joyce che è capace lei e quindi sono capaci anche tutte le altre donne di fare le stesse identiche cose che possono fare gli uomini. Non ci sono quindi grandi differenze e se ci sono differenze queste differenze lo sono solo perché ci sono modi e sistemi di agire diversi tra uomini e donne che però non devono dare spazio e manforte solo agli uomini ma aprire le possibilità anche alle donne. Una lotta femminista che sicuramente si pone in maniera completamente diversa da quella che poi si è trasformata ed è diventata quella che conosciamo noi oggi. Una lotta che di lotta non ha più niente, che di sostanza non ha più niente proprio perché invece che parlare delle proprie possibilità e delle proprie capacità probabilmente le lotte femministe di oggi combattono semplicemente sul raffrontare, sul mettere in paragone e non guardano più a se stesse come appunto capaci di e aventi gli stessi diritti degli uomini. Questa è la lotta femminista ed è quello che praticamente Joyce Lussu e ovviamente Ballestra in questo racconto ci propongono non solo quindi nel raccontare scritto di Ballestra ma soprattutto nel vivere concreto di Joyce. Emilio e Joyce sono quindi uomini e donne del loro tempo che hanno combattuto strenuamente contro tutto e contro tutti alle volte e soprattutto anche contro se stesse e qui ci viene raccontato il momento difficilissimo in cui Joyce ha dovuto scegliere se tenere il primo figlio o meno proprio per il periodo storico in cui ha vissuto. Una scelta che non è da giudicare, non è da commentare se non un appunto in quell'ottica di raccontare la situazione storica del tempo e quindi anche tutta la sofferenza che c'è dietro una scelta del genere che poi accompagna la donna nelle sue lotte e nelle sue azioni successive. Quello che Joyce ed Emilio quindi portano avanti non è solo la lotta politica e sociale dell'epoca, il volersi liberare dal peso e dalle costrizioni dei regimi in Italia come anche del resto d'Europa, ma alla loro mano, alla fine della loro mano hanno una bellissima appendice che è una penna. Con questa penna sia Joyce che Emilio scrivono e raccontano attraverso i loro occhi e attraverso la loro stessa esperienza il contesto storico e culturale e sociale dell'epoca e spesso e volentieri come appunto Silvia Ballestra ci racconta, i loro racconti si intrecciano, vanno quindi a formare quasi un unico grande racconto, appunto visto con il punto di vista dell'uno e dell'altro, che si combinano senza neanche volerlo l'uno con l'altro. È quindi un tesoro importantissimo questa loro produzione di testi, di racconti, ma anche Joyce è una poetessa. Attraverso la poesia Joyce vede lo strumento sociale attraverso cui quindi comprendere la cultura del posto, comprendere la cultura del luogo e usare tutto questo per mobilitare le persone, per smuovere gli animi, le coscienze. Il suo lavoro quindi possiamo dire è quello sì politico ma soprattutto quello attraverso la propria scrittura che mette in moto grandi movimenti sociali che quindi ancora una volta ci raccontano questa scrittrice non solo quindi attraverso le sue gesta ma anche attraverso il potente uso di un potere enorme che è appunto la parola scritta. Joyce ed Emilio quindi sono due rivoluzionari, due combattenti, due persone di alto spessore culturale ma anche e soprattutto umano che con i loro sforzi, i loro sacrifici e quelli di tanti altri dell'epoca hanno saputo operare e creare una rete che non solo è una rete di contatti, cosa che noi oggi tramite internet abbiamo in maniera molto semplice a portata di mano, ma è una rete di persone, di esseri umani. Il tutto raccontato attraverso le loro parole ma anche attraverso la scrittura e i resoconti di tanti dell'epoca e dei successivi fino ad arrivare proprio al racconto di Silvia Ballestra. Questo libro quindi per me è importantissimo, è uno strumento utilissimo che mi permette come vi dicevo all'inizio di fare luce su tanti momenti della storia italiana e non solo italiana che a me appunto sfuggono ma che mi mettono quindi avanti a situazioni veramente che non conoscevo e quindi è un tesoro inestimabile. Non solo a livello storico per la guerra, per la resistenza e per tutto quello che concerne il combattimento mentale e fisico di chi appunto si è mosso nell'ombra e non solo nell'ombra per poter liberare l'Italia, ma anche soprattutto un combattimento culturale, sociale, che è quello rappresentato proprio dalle gesta di Joyce. Un combattimento che oggi forse è troppo stravisto, deformato, che è appunto il combattimento femminista e che attraverso questo libro riscopriamo e che diventa importantissimo non solo per capire tanto di quello che è successo durante la guerra, ma anche e soprattutto per capire oggi a cosa ci siamo ridotti, a cosa è diventato il movimento femminista oggi e a cosa invece dovrebbe continuare ad aspirare e ritornare ad aspirare. Forse è anche questo il tipo di lascito che appunto ci fa Joyce attraverso l'esperienza personalissima di Ballestra, questa scrittrice che ha avuto quindi la fortuna di incrociare i passi di questa donna così forte, così potente, che attraverso le sue lotte e il suo combattimento ci lascia un'eredità importantissima nel riscoprire soprattutto oggi l'importanza dei valori per cui dovremmo ancora combattere e andare avanti e lo dico non solo alle donne che mi ascoltano ma anche e soprattutto agli uomini che per tanto tempo hanno continuato e continuano a mettere i bastoni tra le ruote alla crescita della società femminile. È un libro che quindi mi è molto piaciuto poter leggere e affrontare ma di cui però non voglio parlare ancora in questo video, vi aspetto nei commenti qui sotto. Se non avete letto nulla a riguardo, il libro ve lo lascio come link affiliato Amazon qui sotto nei commenti, anzi nell'info box. Potete recuperarlo, leggerlo e tornare qui a parlarne assieme. Nel frattempo io vi ringrazio per il tempo che abbiamo passato assieme, questo è solo il primo libro, sto già iniziando il secondo. Nel frattempo quindi vi aspetto nei commenti, ditemi la vostra. Se poi questa puntata vi è piaciuta mettete un bel mi piace cliccando qui sotto, condividete la puntata con i vostri amici e soprattutto iscrivetevi e fate iscrivere attivando la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione. Mi trovate in tutti i social network che sono qui sotto nell'info box ma fate visita soprattutto a www.retrattinocenso.it ma iscrivetevi nei gruppi facebook, telegram e instagram il salotto dei recenziali. Io sono Dario, questa è il recenso e noi ci vediamo venerdì prossimo con una prossima puntata, sempre qui, sempre su recenso, pronti a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia. Giù di lì.